Musica Nasce a Romano un laboratorio civico per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi della tutela del territorio a partire dal progetto della nuova Val Sugana fondatori dell'associazione il presidente Davide Benacchio, Maria Pia Farronato e Tamara Baron oltre a organizzare attività e incontri il laboratorio civico si propone di collaborare con altri gruppi e comitati per promuovere un modello di sviluppo più attento alla salvaguardia dell'ambiente